Emilio Carelli, Movimento 5 Stelle, ben trovato e bentornato a Stagadà. Facciamo entrare Alessandro Giglioli, vice-direttore dell'Espresso. Dovrebbe essere collegato con noi da Milano l'onorevole Simona Malpezzi del Partito Democratico. Ben trovato, onorevole Malpezzi. E poi ci dovrebbe essere anche Francesco Borgonovo della Verità. Vediamo se riusciamo ad aprire anche il collegamento con Borgonovo. Prova, prova. Ancora no, ne lo faranno sapere. Siamo fiduciosi. Come sta Carelli? Bene, grazie. Come va la campagna elettorale? Sto portando avanti una campagna elettorale? Se hai già pentito o ancora no? No, assolutamente no. No, assolutamente. Campagna elettorale molto intensa, molto anche di soddisfazione, soprattutto sul territorio, incontrando le persone, gli attivisti e anche tutti quelli che sono ancora un po' indecisi e cercando di convincere che il Movimento 5 Stelle è l'unica vera soluzione per il cambiamento. E' la soluzione. Allora facciamo una cosa, siccome sta... Carelli, secondo lei c'è un allarme a fascismo in Italia? Allora guardi, io penso che... Ma perché molti accusano il Movimento 5 Stelle di non essere chiaro sul punto. No, no, guardi, siamo molto chiaro, adesso io dico quello che penso, ma penso che il Movimento sia allineato. Allora, l'antifascismo è un valore importantissimo della fondazione della nostra Repubblica, è un valore storico che tutti abbiamo sostenuto in questi anni. Importantissimo per una democrazia anche il confronto delle opinioni, quindi l'importante è che questo confronto avvenga sempre in modo pacifico, quindi è giusto che si manifesti anche a favore dell'antifascismo, no? In questo modo. Però io penso che l'antifascismo è un po' un punto di partenza, un punto di partenza che parte molto da lontano, che noi diamo quasi per scontato. oggi i problemi che la gente percepisce e sente sono poi i problemi della vita quotidiana, sono i problemi della qualità della vita, ecco perché per noi è molto più importante in questo momento dedicare le nostre energie a sostenere il nostro programma, 20 punti per migliorare la qualità della vita che perdere tempo su una cosa che consideriamo scontata, certo che siamo tutti antifascisti e l'antifascismo è uno dei valori fondamentali su cui si fonda la nostra Repubblica. Allora però le faccio una domanda successiva, Casa Pound, Forza Nuova, gli altri movimenti d'estrema vera dovrebbero essere messi fuori legge? No, io penso che devono essere messi fuori legge i movimenti violenti, solamente i movimenti violenti, i movimenti che portano avanti delle idee, cioè l'articolo 21 permette la libertà di opinione in tutto il paese, quindi il confronto democratico basato sul confronto non violento deve esistere, però penso anche una cosa che l'antifascismo torna a galla a mio parere ciclicamente quando la politica è debole, io penso che in questi ultimi anni il nostro sistema politico dei partiti sia debole, si sia indebolito e percepisca che non ha più il consenso da parte della gente, da parte dei cittadini, degli elettori, questo è un problema vero e reale. Due domande nell'ordine, uno, Beltroni ricorda, Berlusconi è il nostro avversario, quindi non si fanno largamente se si torna a votare, vero o falso? Questa è la prima domanda. E la seconda è, era un ulteriore ben servito a Renzi? Allora, io penso che il Movimento 5 Stelle ha una posizione molto precisa sul dopo voto, cioè noi siamo convinti e abbiamo anche tutti gli elementi dei sondaggi che saremo la prima forza politica del Paese dopo queste elezioni, quindi pensiamo di avere diritto di ricevere l'incarico di formare il nuovo governo, il nostro candidato premier è l'unico movimento che ha un candidato premier vero identificato, mentre gli altri non sappiamo ancora quali sono i candidati premier. Il nostro candidato premier chiederà di ricevere l'incarico e proporrà un governo 5 Stelle. Se vinceremo con un'ampia maggioranza e non avremo bisogno di numeri in Parlamento, governeremo da soli. Se invece i numeri non saranno sufficienti, si farà un appello agli altri gruppi parlamentari per trovare una convergenza di programma. Questa è una posizione molto trasparente, molto chiara, molto lineare. In quest'ottica, in questi giorni stiamo già elaborando una lista di candidati ministri che Di Maio proporrà presenta della Repubblica, che verrà anticipata giovedì prossimo, primo marzo, verrà resa pubblica e verranno presentati. Io le prometto che torniamo sulla questione di qual è l'indicazione del Movimento 5 Stelle, peraltro ripetuta dal principio sempre uguale, quindi quella ce l'abbiamo chiara. Viceversa le chiedevo che cosa pensa di quello che ha detto Veltroni, quello che ha ribadito, credo anche oggi Renzi, noi non faremo larghe intese. Mi fa piacere perché noi siamo i primi a essere contrari. E questo non lo so, ma larghe intese PD e Forza Italia non hanno i numeri in ogni caso. Se noi andiamo a vedere i sondaggi non avranno comunque i numeri, quindi dovranno allargare ulteriormente questa sorta di coalizione. E poi che senso ha fare larghe intese tra due partiti che si sono sempre combattuti tra di loro, tra di eri politici che almeno pubblicamente si sono sempre avversari. Io ho grande stima di Veltroni e perché no? Penso che sia in buona fede. Perché siamo partiti da Berlusconi, Carelli? Siamo partiti da Berlusconi perché a quanto pare il sud dell'Italia, la battaglia è tra Movimento 5 Stelle e Forza Italia. Allora, poco fa il nostro bravissimo Alessio ci ha letto un'ultima dichiarazione di Di Maio che invita tutti a votare i 5 Stelle, diciamo così, un voto utile, un appello al voto utile dicendo a tutti gli amici della sinistra se vogliamo contrastare il centrodestra l'unica possibilità è dare un voto ai 5 Stelle che sono in pole position nei sondaggi e che quindi hanno una possibilità di vincere. In questo momento il PD, secondo i sondaggi, è sicuramente fuori gioco, quindi l'invito è molto chiaro, un invito a un voto utile per poter contrastare il centrodestra. Questa è una cosa molto importante che io rinnovo qui in questa trasmissione perché mi sembra che in questo momento, a 5 giorni, 6 giorni dal voto, sia importante anche per gli indecisi che magari pensano ancora di votare a sinistra, sapere indirizzare bene il loro voto e dare un voto utile. Allora, per il Movimento 5 Stelle l'emergenza immigrazione è uno dei punti qualificanti del nostro programma, quindi fermo restando il concetto, il principio dell'accoglienza per gli immigrati politici che hanno diritto a essere ospitati ed accolti, noi siamo fermamente convinti che il problema deve essere condiviso da tutti i paesi europei. Quindi, come ho già detto altre volte, la gestione dell'immigrato che arriva deve essere rapida, deve stare qui qualche settimana individuando se è un immigrato che ha diritto ad asilo e allora deve essere subito mandato in altre nazioni in modo da condividere costi e gestione di queste persone e non che non sia solo l'Italia o solo la Spagna o la Grecia a gestire l'immigrazione clandestina. Sì, diciamo che al momento l'Europa da quell'orecchio non ha voluto sentirci. Non si sente, allora quei paesi che si rifiutano, sono i paesi dell'est, alcuni dell'Unione Europea che si rifiutano, devono essere penalizzati, non gli si danno più i fondi, la suddivisione dei fondi europei viene bloccata per questi paesi. Questo è un concetto molto... E anche di quello vanno convinti tutti gli altri, però...